La guerra di secessione è finita e le lunghe e faticose piste che portano ai grandi mercati vengono man mano sostituite dalla strada ferrata, ma le valli solcate dalla ferrovia diventano subito preda di speculatori senza scrupoli e il delitto diventa sistema. Metteremo le mani sulla terra di Ballora adesso con i pascoli e il torrente e vi posso assicurare che non andrà molto per le lunghe. Quando i lavori della ferrovia cominceranno sarà tutto nostro. Sangue chiama sangue e se sporchi interessi armano la mano dei prepotenti anche la legge deve opporre violenza alla violenza. Il paladino della giustizia è Sandokid. Devo portarvi con me, vivi o morti. Ecco i vostri mandati di cattura. Persegue il diritto fin oltre la tomba ed arresta anche i morti. John e i suoi compari li ho arrestati. Ma che arrestati? Sono morti. Eseguo gli ordini. Vivi o morti dice la taglia. Sulle mani cadavere, sei in arresto. Pochi a dire. Hai parato! Biancheggiano Sandokid, Dollaro e Frate Bamba, altrettanto scansonati e paradossali. E scatenano un vortice di avventure in un clima arroventato dagli spari, in una furia di odio e passioni, in una girandola di vendette e di sadismo. No, lasciatelo stare! Sono sicuro che adesso suo padre si convincerà. Sulle mani cadavere, sei in arresto. Peter Lee Lawrence è il prestigioso Sandokid. Impressibile e sconcertante, non dà pace nemmeno ai morti. Avete l'aria di uno fortunato anche in amore. Beh, non posso lamentarmi, anche se risulta difficile purtroppo. E nel porto tranquillo dell'amore, l'odio si placa appena un istante. Perché il tempo scandisce i secondi e torna la colta, strumento di fuoco, per un concerto mortale. Sandokid, Dollaro e frate Bamba sono tre giocolieri della pistola. Invincibili e bizzarri, e le loro gesta sono diventate leggenda. Tre demoni con una straordinaria carica di simpatia e di umanità. Missione compiuta. Lo ha arrestato. La legge dice vivo o morto? Arrestato morto. Sulle mani cadavere, sei in arresto. Interpretato da Peter Lee Lorenz e Spartaco Santoni, Franco Agostini, Helga Liné, Aldo Sanbrel, Aurora de Alba e Mary Zan. Una coproduzione italo-spagnola realizzata da Sergio Bergonzelli. Un'esternal italiana, brioso e spumeggiante, che vedrete prossimamente qui. Sulle mani cadavere, sei in arresto. Sulle mani cadavere, sei in arresto. Un'esternal italiana che si chiama, se chiamingi cadavere, sei in arresto.